Carlo Clavarino, Presidente della Fondazione San Patrignano, buongiorno, le volevo chiedere che cosa ne pensa del fatto che per il secondo anno abbiamo avuto il Positive Economy Forum tenuto qua a San Patrignano? Beh, è un momento sicuramente importantissimo, è un momento importantissimo per la comunità, è un momento importantissimo per quello che viene definita la Positive Economy, è un convegno sempre più importante, è un convegno che ha visto la presenza di importantissimi membri del nostro governo, ha appena parlato al Ministro della pubblica istruzione a dimostrazione della sensibilità che questo governo ha nei confronti della Positive Economy. Per noi della Fondazione San Patrignano è un onore ricevere questo forum che sta diventando anche a livello mondiale uno dei forum più importanti, che parla di questi argomenti, che è un argomento sempre più importante, è un argomento sempre più discusso e che sta sensibilizzando e questo forum sicuramente aiuta moltissimo quello che è il messaggio anche in Italia di quello che è l'economia positiva, perché l'economia positiva è un qualche cosa molto sviluppata nei paesi anglosassoni, si sta sviluppando molto velocemente anche nel nostro paese, nei paesi latini, in Italia specialmente, il fatto della presenza di tutti questi personaggi che non solo il governo, ma tutti i personaggi dell'imprenditoria e della comunità italiana sono stati sicuramente, e internazionali, sono stati sicuramente un segnale molto importante per questo tipo di congressi. Perfetto, poi le volevo chiedere, in che modo AON sostiene l'economia positiva? Io ho avuto modo di conoscere San Patrignano sia prima di diventare presidente di AON, sia prima di essere presidente della fondazione, ne sono rimasto folgorato come credo tutti voi, e chiunque venga qui, io invito tutti quanti a venire a conoscere San Patrignano, non solo i nostri sponsor, ma i comuni cittadini, sono delle giornate che San Patrignano può essere visitata da tutti quanti. Le multinazionali, io lavoro per una multinazionale americana, le multinazionali americane hanno il DNA, hanno proprio questa mission di devolvere una parte della loro ricchezza alla comunità che li ha fatti ricchi. In questo DNA l'AON è sicuramente una delle aziende più generose negli Stati Uniti d'America rispetto alle sue dimensioni e quando io ho proposto di aiutare la comunità di San Patrignano alla mia casa madre, all'AON, ho trovato assolutamente terreno fertile. Come facciamo? Noi per esempio l'anno scorso abbiamo addirittura fatto al nostro congresso dell'AON, la convention dell'AON con più di mille persone sono venute a San Patrignano da tutta l'Italia con tutti i ragazzi della comunità. È stata un'esperienza bellissima, emozionante, toccante. Pensate che nella sala da pranzo eravamo più di 2000 persone che mangiavamo contemporaneamente e il minuto di silenzio che normalmente si fa prima di mangiare, che è una tradizione che San Patrignano ha, che io trovo bellissima, personalmente in quel minuto di silenzio si è sentita tutta la forza che c'è in questa comunità ed è stata trasmessa la nostra multinazionale. È stato un momento importante, è stato uno scambio importantissimo. Per il resto ci sono come sempre anche delle funzioni proprio di... qui si impara moltissimo, molti dei nostri dipendenti vengono a imparare e comunque c'è sempre uno scambio e un aiuto non solo economico ma proprio anche intellettuale tra una grande multinazionale e una grande comunità come San Patrignano. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei, grazie mille.